E' stata una bellissima iniziativa, che ha cresciuto i tantissimi parlamentari europei che sono stati presenti questa sera. Il documento proposto dall'Associazione Città Slow è stato assolutamente condiviso e il timing che ci siamo dati da qui a giugno per addivenire ad una definizione dei criteri utili per sostenere questo progetto mi sembra abbastanza appropriato. Penso proprio che ci sarà da parte del Parlamento europeo, da parte dei tanti colleghi che sono intervenuti questa sera, un grandissimo impegno per essere al fianco di questa associazione che promuove le città slow, cioè le città nelle quali si vive bene, dove dobbiamo mettere in campo politiche sempre più rivolte al benessere sociale.